Semplificazione e trasparenza soprattutto per la raccolta differenziata nel Comune di Giulianova? Assolutamente sì. Quello che volevamo è che ci fossero dei servizi sempre maggiori, sempre più vicini ai cittadini. È importante informarli delle novità, è importante che ci siano delle alternative rispetto allo sportello Infopoint che rimarrà sempre aperto come lo è stato fino ad oggi per il contatto con i cittadini, per tutte quelle necessità che non sono risolvibili tramite un sito o tramite un'applicazione. Come funziona l'app? L'applicazione è molto semplice, è su piattaforma sia Android che iOS, riporta una schermata molto semplice con indicazioni dei calendari, indicazione dello spazzamento, dove si fa lo spazzamento, in quale strade? È possibile vederlo, con un'indicazione addirittura geotaggata sulle informazioni, cioè voglio segnalare un mancato ritiro, un rifiuto abbandonato o quant'altro, posso individuare le coordinate, semplicemente toccando un riquadro, indicare con una mail quelle che sono le segnalazioni ulteriori rispetto all'eventuale indicazione sull'applicazione e ovviamente dovrà essere poi individuato il soggetto che fa la segnalazione. Quindi ci sarà una email attraverso la quale verrà inviata la segnalazione con l'applicazione. Si possono anche allegare fotografie, cioè non soltanto segnalo geotaggando il luogo dove c'è la circostanza non conforme, ma possono anche fare una fotografia ed inviarla. Questo a disposizione dei più smaliziati con la tecnologia, ma oramai lo siamo quasi tutti. Io debbo ringraziare per questo ulteriore servizio il gestore unico, e quindi l'avvocato Ranalli che stamane insieme a noi, insieme all'assessore Ruffini, presenta questo nuovo servizio. Quello che noi ci eravamo impegnati di fare quando il primo aprile del 2015, non un'era geologica fa, ma meno di un anno fa, è entrato in servizio il gestore unico dei rifiuti. Questa collaborazione e sinergia con Ecotedi sta dando dei grandi risultati, e questo solo ed esclusivamente è a vantaggio dei cittadini, e di questo ringrazio la squadra che ci sta lavorando.